Traffico ferroviario nord-sud in tilt per il deragliamento nella notte di un treno per il trasporto di container alla stazione di Firenze-Castello e che ha provocato lo stop sulla tratta Bologna-Firenze. Nessun ferito ma l'incidente ha provocato l'abbattimento di alcuni pali e tralicci che alimentano la linea e i convogli sia sulla tratta dedicata all'alta velocità che su quella storica. I tecnici di RFI sono già a lavoro per ripristinare al più presto l'infrastruttura. Intanto si registrano cancellazioni e forti ritardi con conseguenti disagi per i viaggiatori.